Monted, mi ha detto? No? Sì, sì. Ci andiamo a fare un giro. C'hanno belli, no? No, sono più palito. Io non capisco. Mi hai capito anche la casa. No, non funziona un cazzo. Porco due, frate. Bellissima. Vatti i bagli del catalogo, sti. Fanno male bugato. Ah, vabbè. Tranquilla, proprio. Una cosa così da poco, proprio. Ah, sì, vabbè. Tu puoi poter... Vai, vai. Vai. Peccato che è coperto. No, vabbè. Io ti ho fatto. Ma senti una cosa, ma perché... Oh, oh. Che cosa hai fatto? Ti banno un attimo ci siamo qui. Vemani. Tutta l'inacqua. Vabbè, che stiamo fanno i frammenti. Tutta l'inacqua. Cosa ti ho fatto? Tutta l'inacqua. Cosa ti ho fatto? Tutta l'inacqua. Tutta l'inacqua. Tutta l'inacqua. Che cosa ti ho fatto? Che mi invito a fare così. Guarda, io ti rispetto tantissimo. Mi rispetto tantissimo. Ma come è un menometra che in fare non esiste? Non è vero. Ma io te vanno bene, te vanno bene, te vanno bene, te vanno bene. Tagli un bacetto, datevi un bacetto. Tagli un bacetto. Tagli un bacetto. Dai, è lì, calmo, è lì. Tagli un bacetto. È lì, calmo. Fa amici. È lì, calmo. È lì, calmo. No, calmo, ti prego. No, fermo, fermo. Sì, stai a fare i video a quei ritardati di te lo cazzo. Fate, fai a fare il bagno. Dai un bacetto. Ti rispetto molto più che il rondo. Dopo oggi. Il rondo mi fa un bocchino, mi fa tutto il bocchino. Mi fa tutto il bocchino. Mi fa tutto il bocchino. Mi fa tutto il bagno. Immagite, ritardato. Ma come hai bullato? Sei contento? Immagite, ritardato, fai i video, l'amico, l'amico, così, storie mie, co***e. Ti ho sempre rispettato. Certo, ragazzi, li voglio bene, li voglio bene, ragazzi, solo co***e, è tutto per il banno, è tutto solo amore e co***e, solo amore e co***e, però... Non andiamo, ti ho sempre rispettato. Sì, però lavati un attimo perché sono canfano. Dai, facci il seguito, dai, sbrigati. Mi sembra. Ho sempre rispettato. Ho sempre rispettato molto più da Gerrone di altri. Non mi sono cantato, perché io sono un po' vero, non so. Infatti, mi dicevi che fanno un po' di testimonio. Io questa roba mi sono chiesto. Fatti il bagno, oh, fatti il bagno, sbrigati io. Fatti il bagno, fatti sotto, fatti sotto, immagini, bravo, fatti l'apnea, l'Isola dei Famosi, ragazzi, l'Isola dei Famosi siamo noi, siamo, non cazzo, 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 infatti tranquillo, ho parlato già con Samuel, parla per tutta DMF Studio, gang gang gang, Roma Q17, non infami, non cazzo, che cos'è questo ditch, questo... Sideshitto, coglione, usavi le storie mie, facevi finta che non esistevo, coglione, povero coglione, tanto te l'avevo detto che la... come si gira sta merda? Te l'avevo detto che il primo giorno che prendevo in mano questa cosa, l'hype me lo pio da sola, non mi serve un cazzo, ragazzi, non mi serve un cazzo, volete vedere il cazzo? In diretta, gang, chi è il boss? Chi è il boss? Non ti faccio bannaselo perché non devi fare un cazzo, perché probabilmente devi fare qualcosa di trucido. Ma che devo farlo? Fallo, quanto mi vuoi bene? Guarda, io e il social boom ci vogliamo bene, ragazzi. Bacetto, un bacetto finale. Oh, dammi un bacetto. Oh, dammi un bacetto. Frate, non mi si è piaciuto oggi. Dammi un bacetto, scrivete. Ma che te la metti? Oh, dammi un bacetto. Fai vedere, 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 bacino. Non fa così, ti piace pure. Ma che stai a dire? Fa così. Possiamo parlare fuori dalla camera adesso? Possiamo parlare fuori da un cazzo, però chi è il boss? Poi devi vedere un attimo in chat chi è che dice chi è il boss. Perché a me non me ne frega un cazzo di niente e io non è che gli ho fatto qualcosa. Nenchio l'ho fatto niente. Tu sei un coglione, sei. Non ti faccio niente. Guarda, usavi le storie mie per fare hype, hai fatto 4 milioni di video. Gallagher, Rondo, testa di cazzo, hai fatto diventare famoso un poro ritardato come te. Guardate, questo è il coglione che ha fatto diventare il rapper più pagato dell'Italia, grazie a lui che è un povero coglione. Ah, quello è l'obiettivo. Sì, è quello l'obiettivo. Coglione, amico di cose, testa di cazzo, hai fatto 4 milioni di video, ammettivi le storie mie e faccio diventare niente. Non prega a me, tanto quello... Chi? Quello tanto mi deve dare il 50% degli incassi, ragazzi. Come è arrivata per lui, arriva per tutti. State tranquilli. Grazie. Grazie. Grazie.